Ciao, nel video di oggi analizzeremo alcuni degli errori che ti fanno rischiare di essere rifiutato abbastanza brutalmente in discoteca e questo anche quando sei molto bello. E per farlo analizzeremo uno spezzone di un vecchio reality americano chiamato Keys to the VIP dove i ragazzi andavano ad approcciare ragazze in discoteca sotto l'occhio dei commentatori. Prima di cominciare ti ricordo una cosa importante, se ti interessa la seduzione ho anche un canale telegram chiamato Gio di Lorenzo dove condivido informazioni che su questa piattaforma dove mi vedi ora non posso darti, quindi vieni a trovarmi anche lì, trovi il link in descrizione. Ok, dicono quando le ragazze mi vedono, vedono la mia altezza, il mio look eccetera eccetera, ma quello che amano di più è la mia personalità, quindi vediamo com'è questa personalità. Allora voglio fare una premessa ragazzi prima di cominciare, questo video non è una frode come tante di quelle che vedete nell'industria, se la seguite, quindi non sto cercando in alcun modo di convincervi che visto che voi non siete belli come lui potrete comunque ottenere i suoi risultati o risultati migliori dei suoi o di un uomo di parità di valore sul mercato sessuale solo perché vi mettete a studiare seduzione. Nonostante se un uomo molto bello non fa nulla o fa solo cazzate potrebbe essere che voi otteniate risultati migliori almeno in termini di quantità, rimane il fatto che comunque se non siete nella sua lega questo comunque è anche uno sport di genetica, che che ve ne vogliano dire i guru. Questo non toglie però che tutti possono beneficiare immensamente dal sapere quello che stanno facendo e lo stesso vale anche per un ragazzo come questo al netto della sua bellezza fisica. Ora un'altra premessa, questi video sono spezzettati per motivi di lunghezza e per il fatto che su youtube insomma la vostra soia di attenzione è bassa, ma per onestà intellettuale vi devo dire che questo è solo uno dei video del ragazzo che analizziamo e gli altri se questi video, se questa serie di video andrà bene, li analizzeremo nel futuro, ma nello specifico questo approccio va male, uno va molto bene senza che lui faccia quasi nulla e uno va molto male in questa puntata del reality show sempre perché lui cappella dal punto di vista verbale. Quindi vedremo come anche quando sei molto bello sapere cosa fare può portarti benefici immensi e la mia, o meglio il mio sospetto è questo se non fosse il più bello del locale, quella notte poco ci mancava. Ok e qui bisogna partire con una premessa, in realtà questa sfida, nel senso che spesso in questo show facevano delle sfide, non è la cosa francamente migliore possibile per lui, lui non sta giocando in casa, perché ti dico questo? Perché SMV, cioè valori sul mercato sessuali diversi, hanno necessità che tu ti comporti in maniera diversa. Qual è il più grosso rischio di questo ragazzo? Magari ferma il video e pensaci un attimo prima che io ti dia la risposta. L'hai fatto? Bene. Il più grosso rischio di questo ragazzo è quello di passare come arrogante, proprio in virtù di quello che è il suo aspetto fisico. Quindi metterlo in una situazione dove lui può parlare solo di se stesso, in realtà significa farlo giocare fuori casa. E questo è un fatto al netto di tutto quello che abbiamo detto finora. Ora partiamo con quello che è l'approccio in sé, visto che abbiamo detto, visto che abbiamo fatto questa premessa. Come puoi vedere qui, lui sta già sbagliando, nel senso che con quello che è il suo linguaggio del corpo, entra per così dire in quella che è la realtà della ragazza, cioè lui sta pendendo verso lei. E ora è sicuramente vero che la ragazza è molto più bassa di lui. Lui, tra le altre cose, è anche un ragazzo, mi sembra di capire, molto alto. Però da come vediamo tutte le altre persone che stanno parlando all'interno del locale, quella che è la musica permette di parlare tranquillamente. Quindi in questo caso lui sta semplicemente commettendo un errore perché non sa quello che fa e perché molto probabilmente la realtà del mondo esterno gli ha insegnato, nel senso che anche se lui commette degli errori tecnici, come fare quello che in gergo tecnico definiamo l'in-in, cioè sporgersi verso la ragazza, soprattutto quando non è necessario, il mondo esterno diciamo che glielo perdona molto probabilmente e riesce ad avere una vita sessuale che non ha problemi nonostante questi tipi di errori. Un'altra cosa che tu vuoi notare è la scelta del, tra virgolette, target, come si dice una volta in gergo tecnico, cioè della ragazza. Questo ragazzo francamente dovrebbe fare meglio, dovrebbe appuntare, per così dire, a ragazze più belle. E soprattutto in una missione come questa dove, insomma, per natura devi passare come un po' arrogante parlando solo di te stesso. E quindi sicuramente avrebbe dovuto scegliere una ragazza differente. Poi magari a lui piace, però nessuno può contestare che lui sia più bello di lei. Ok, e qui quindi praticamente lui le dice se le piacciono i giocatori di hockey, che è un po' come dire ti piaccio, in realtà, nel senso che il giocatore di hockey è lui. E francamente non ha molto senso iniziare così, anche al netto del fatto che gli è stata data come missione il fatto di parlare di se stesso. Se voleva scegliere questa strada, cioè parlare dell'hockey, e cioè l'hockey è l'unica cosa nella sua vita, avrebbe probabilmente dovuto partire da un'angolazione diversa. Ora, io non vedo la ragazza perché coperta, ma posso immaginare che abbia delle belle gambe, al netto del fatto che è molto magra. Quindi un ragazzo di questo tipo avrebbe potuto assolutamente permettersi di partire in maniera sessuale e dirle qualcosa del tipo che l'aveva notata, aveva notato in particolare le sue gambe e quindi pensava che facesse qualche sport o andasse in palestra. Lei a quel punto avrebbe potuto introdurre il fatto dell'hockey in maniera più organica, in quella che era la conversazione, ma soprattutto avrebbe, vista la sua fisicità, iniziato subito quella che era l'interazione con uno statement, una dichiarazione carica di intento sessuale e quindi avrebbe velocizzato quelle che erano le cose e soprattutto creato una scintilla di attrazione nella ragazza. Ok, e lei gli chiede, tra l'altro nota come lui continua a pendere verso di lei quando nessuno in realtà all'interno di questa zona locale sembra averne bisogno, ma lei gli chiede in buona sostanza, questa è la prima cosa che tu chiedi alle ragazze e lui si giustifica dicendo, no no, ero semplicemente curioso. Quindi lei fa uno shit test e lui semplicemente lo fallisce. E quindi qui in buona sostanza quando lei gli chiede questo, lui avrebbe dovuto passare, come diciamo in gergo tecnico, il test. E un modo per passarlo è il classico agree and amplify, essere d'accordo e amplificare la cosa fino a renderla ridicola. La cosa che secondo me lui avrebbe dovuto dire sarebbe stato qualcosa del tipo, sì lo devo ammettere è la prima cosa che chiedo alle ragazze, devi sapere che sono molto impacciato e imbranato e quindi è la mia pick up line di apertura. A dire il vero me l'ha suggerita mia sorella. Cosa dici? È una buona frase. Perché questo? Perché nel contesto in cui lui si trova, molto spesso, soprattutto in quegli anni, le ragazze ti accusavano di utilizzare una pick up line, cioè una frase preconfezionata, se tu entravi con qualcosa che sembrava scriptato. E quindi lui dicendo qualcosa del genere avrebbe, come dire, un po' preso per il culo la ragazza, un po' preso la cosa ridicola e soprattutto avrebbe utilizzato la tecnica, in gergo tecnico definiamo imitazione di uno sfigato, dove in buona sostanza prendendo per il culo una certa categoria, cerchi di distanziarti da essa. Ok, e qui in realtà uno dei commentatori ha ragione, questa è l'unica cosa di cui lui sa parlare e quindi è l'unica cosa di cui lui le parla. E questo è un altro esempio del fatto che in realtà lui avrebbe avuto un immenso beneficio nel avere, al livello principiante in cui è, seppur per lui non è un problema essere un principiante, dal punto di vista tecnico, avrebbe avuto un immenso beneficio nel sapere cosa dire, nel avere uno script, per così dire. Qui vediamo nuovamente come lui si sporge verso di lei, mentre non ce ne sia alcun bisogno e quindi cappella in buona sostanza tutti quelli che sono i fondamentali della subcomunicazione che spiego in Carpe Knight. Ok, e qui in buona sostanza si mette a parlare del fatto che è qui col cugino o qualcosa del genere e che si trova con lui, cosa assolutamente irrilevante per la ragazza. E come vedi, se lui avesse, tra virgolette, passato il test, come io ti suggerivo, questo avrebbe potuto, diciamo, creare un filone di conversazione completamente diverso. Cosa non te lo so esattamente dire, nel senso che molto spesso in seduzione tu devi conoscere dei macro concetti ed andare poi in freestyle, e questo è soprattutto vero quando tu passi un test, ma invece si mette a parlare del cugino. E quindi in realtà, se proprio lui avesse voluto scegliere questa strada, avrebbe dovuto dirle qualcosa del tipo, dopo essersi messo a parlare dell'hockey. Sai, in realtà sono qui con mio cugino, con mio compagno di squadra, quel cazzo che è, e tu invece con chi sei, visto che in questo momento ti vedo da sola. E in questo modo avrebbe iniziato a fare delle domande di screening alla ragazza per capire qual è la sua situazione questa sera all'interno del locale e per capire se c'era una possibilità di portarla a casa o meno, o quantomeno se questa possibilità era alta o bassa. Ok, e qui quello che lui dice non ha assolutamente senso, nel senso che in buona sostanza molto probabilmente non sa più cosa dire e sta tagliando corta quella che è l'interazione dicendole semplicemente posso avere il tuo numero, lasciamo perdere sul come glielo chiede, e adducendo come scusa il fatto che è troppo numeroso e quindi non possono parlare e la vuole chiamare. E qui lei le farà un'obiezione che è assolutamente giustificata. Cioè lei, rivediamolo un attimo, perché mi sa che l'ho stoppato nel momento sbagliato. Lei gli dice praticamente, non mi sembra che sia così rumoroso, ma ok, te lo do il numero. Ok, e qui di nuovo lei gli chiede, hai un accendino? Che probabilmente è il materiale per così dire, per confezionato dei ragazzi quando non sanno il cazzo dire, hai un accendino, nel senso che fumi non ce l'hai, l'accendino. Boh, ma è irrelevante questo. Il problema qui è che lui gli dice, no, sono un atleta, come on, come per dire, andiamo. E il problema è che qui lui diventa sfidante e non era il caso di farlo. Nel senso che questo ragazzo è già meglio della ragazza e quindi dopo aver reso già l'interazione un po' stramba non ha senso introdurre una tecnica di attrazione come la sfida che è tesa a rompere il rapport. Lui in questo momento il rapport avrebbe bisogno di crearlo perché fino a questo momento ha fatto cagare. E quindi la ragazza in buona sostanza sta dicendo vabbè, è figo, gli lascio il numero, ma non ha un reale motivo per lasciarglielo. Ora, e questo lo diciamo fra un attimo, è anche vero che il numero potrebbe funzionare e no, ma ci arriviamo fra un secondo. Ammesso non concesso che la ragazza risponda. Ok, e vedi anche qui come lui continua a pendere verso lei quando è assolutamente innecessario. E qui lui continua a parlare dell'hockey e per carità, insomma, è un po' anche la missione, ma non ha veramente fatto nulla per solidificare quella che è l'interazione. E per di più, il più grosso problema è che la ragazza gli aveva già detto di non essere interessata all'hockey o di non saperne nulla e lui continua su questo filone di conversazione che è un qualcosa di veramente stupido. In soluzione, quando la ragazza non sa nulla di un argomento o non le piace un argomento, semplicemente cambia argomento. C'è questa follia tra, diciamo, una volta era tra quelli che proponevano la cosiddetta seduzione natural in cui dicevano semplicemente parla con passione di quelli che sono gli argomenti che ti appassionano e la ragazza semplicemente sarà presa da tua passione, da tua energia e bla bla bla. Tutte minchiate. Se una ragazza non piace qualcosa, se gliene parli, la noi. E lo stesso è per qualsiasi tipo di persona. Quindi devi avere l'intelligenza sociale di cambiare argomento e di avere sufficienti argomenti di cui parlare per portare la conversazione in una direzione che per lei è più coinvolgente. Ok, qui loro lo prendono per il culo un po'. Vabbè, se la vi. La cosa importante però qui da sottolineare è una. Questo ragazzo era francamente più bello di lei. La ragazza era ovviamente attratta perché non dovrebbe... perché non avrebbe dovuto esserlo. Sarebbe stata una partita, per usare una metafora che ci sta con questa interazione, assolutamente in discesa se lui avesse semplicemente saputo cosa dire. e se avesse avuto veramente due dritte molto, molto banali a livello di linguaggio del corpo e di quelli che sono i fondamentali della subcomunicazione che spiego nel mio corso Carpe Knight. Ora, un po' di ragionamenti qui perché è importante farlo. All'estero e a questo punto anche in Italia all'estero è nata molto tempo fa in Italia sta tornando l'ondata di tutta questa gente dell'autostima della fiducia in se stessi del mostrare la propria personalità attraente eccetera eccetera Questo video, se ce ne fosse bisogno è un'assoluta dimostrazione che queste cose sono solo una parte dell'equazione e non sono la panacea di tutti i mali. Questo ragazzo non ha nessun problema di autostima sono sicuro come la morte che nella sua esperienza ha avuto un sacco di referenze positive con le donne quindi il suo inner game con le donne è assolutamente a posto per quelle che sono le sue necessità quantomeno e ha francamente una personalità attraente nel senso che lascia che mi spieghi in realtà non è in grado di farla passare alla ragazza perché non sa cosa dire ma in America essere un atleta in quella fascia d'età è qualcosa di assolutamente cool quindi è sicuramente al di sopra di moltissimi studenti di seduzione lasciando anche perdere per un attimo la sua bellezza ma analizzando solo quello che fa nella vita quindi è spanna al di sopra di moltissimi studenti di seduzione che partono da una situazione di assoluta debolezza nella vita ma che in qualche modo dopo un bootcamp, un corso o quel cazzo che è dovrebbero sprigionare la propria personalità attraente che non esiste perché sono ancora nella merda in buona sostanza quindi questo video ci dà la possibilità di capire fra le tante cose perché la seduzione ha bisogno di tanti ingredienti per funzionare al meglio quanto sia assolutamente necessario avere tattiche e strategie che siano funzionali, testate, replicabili ora una precisazione finale qualcuno di voi potrebbe dire eh ma gli ha lasciato il numero oppure gli ha lasciato il numero solo perché è bello sì, probabilmente gli ha lasciato il numero solo perché è bello e sì, gli ha lasciato il numero e la pura verità è che questo potrebbe aver portato qualcosa come no non lo sappiamo a volte in seduzione fai un'interazione della madonna e la ragazza sparisce a volte fai un'interazione di merda e la ragazza ti risponde in ogni caso qui lui si è messo davvero 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 i bastoni fra le ruote e una delle cose peggiori che ha fatto è quando ha chiuso l'interazione cioè dice in buona sostanza la ragazza scambiamoci il numero perché qui c'è troppo rumore e non riesco a sentirti la mia sensazione francamente è che la ragazza potrebbe aver pensato ok, questo mi sta semplicemente sparando una scusa perché vuole il mio numero e se non ha niente di meglio da fare una sera esce con me il mio pisella ma in realtà adesso vuole andare a rimorchiare delle altre e questo è il motivo per cui sta tagliando l'interazione in maniera così veloce quindi quello è stato fatto molto male ora ripeto è possibile che nelle condizioni del ragazzo la ragazza risponda esca da un appuntamento e faccia uno sesso sì è assolutamente possibile semplicemente perché la ragazza nella sua situazione gli potrebbe perdonare molti errori ma per la maggior parte dei ragazzi non è questo il caso e questa sarebbe stata un'interazione ad altissimo tasso di ragazza non responsiva dopo quindi se tu hai pensato vabbè ma tanto gli hai lasciato il numero quindi è andata bene significa che sei ancora alle primissime armi e se è così ti consiglio di dare un'occhiata al mio corso Carpe Night dove ti insegno come approcciare la notte in maniera corretta anche come chiudere la notte in maniera corretta al fine di massimizzare quella che è la tua comprensione e quelli che sono i tuoi risultati in maniera più veloce realisticamente possibile se ti interessa ti lascio il link in descrizione stop non scappare subito primo ricordati di iscriverti al canale secondo vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo in questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo quindi clicca il link a destra per accedere a questi video ciao da Joe di Seduzione Attrazione